buon pomeriggio oggi è martedì 18 giugno sono le 17 46 e si torna a parlare finalmente con l'analisi evoluta ovvero l'evoluzione dell'analisi ciclica di first del migliorino di che cosa dell'indice nasdaq sono felicissimo perché oggi abbiamo fatto tre trade due su dax entrambi in gain primo molto grosso secondo decisamente interessante e anche su bitcoin 3 su 3 quindi tecnica 2 tecnica 3 funzionano ormai in pianta stabile estremamente bene sono una forte evoluzione rispetto a quello che potevamo vedere prima che cosa raccontavo di nasdaq in precedenza ti raccontavo nel precedente video eccolo qua con la polo azzurra questa volta non grigia come quest'oggi che dopo il centro che avevamo di nuovo fatto ok ci si aspettava se voleva una piccola chiusura ma comunque salita oppure direttamente salita e basta e stiamo parlando di dove ha scritto sì eccolo qua sei giorni fa potete sempre controllare i video come al solito sul canale primo canale in italia di analisi cicliche analisi evoluta per follower per iscritti per video per tutto qui avete ancora le freccine che come vi facevo vedere avevo segnato identiche nel grafico e adesso possiamo toglierle perché siamo saliti come d'aspettativa in tutti e due casi prima avevo fatto una piccola discesa per la partenza di un settimanale invece hanno fatto talmente poco per farlo iniziare che sono stati fantastici ma la discesa c'è stata ok e a questo punto dobbiamo comprendere cosa fare cosa facciamo primo analisi lato indice da qui a qui abbiamo avuto un semestrale quando abbiamo fatto questa forte disceso detto calma adesso torneremo sopra i massimi perché perché da qui a qui mancava una chiusura ma 170 giorni e un ciclo annuale ed inverso ne dura minimo 192 quindi dopo la discesa mi aspettavo una risalita sopra questi massimi come minimo ed è arrivata esattamente in tempo come raccontavo adesso però siamo arrivati appunto a 232 giorni su in media 256 al massimo 336 ok come facciamo a sapere quando inizieremo a scendere questa è la prima cosa a cui ho iniziato a pensare questo livello 1900 1900 19.636.9 se inizieremo a rimanere qui sotto in pianta stabile non soltanto per la chiusura del ciclo settimanale e del bisettimanale rischiamo di annullare quello che sto per dirvi perché l'aspettativa principale non è discesa e salita salita perché perché abbiamo avuto un primo mensile che si è chiuso qui con un raccordo tra mensili e quindi siamo arrivati a 44 barre di inverso oltre le 43 grazie al raccordo perfetto tra un inverso di grado mensile e successivo e dato che da qui da questo massimo fino a quando non l'abbiamo violato con questa barra siamo stati sotto questo massimo per otto giorni come sapete se siete andati sul sito www.analiseevoluta.io.com e avete richiesto gli appunti e la guida di base gratuita che tra poco migliorerà ancora la sto finendo di metterla a posto sapete perfettamente che cosa succede succede che fatto questo movimento abbiamo dato la possibilità a un nuovo mensile verso di cominciare con almeno appunto 6 barre di tempo puro sotto questo massimo assoluto del 4 di giugno e poi ci siamo vincolati a continuare a salire ad andare su 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 e infatti siamo andati su siamo andati su facendo un primo movimento a 11 barre successivamente tempo puro per far partire il secondo settimanale di inverso e a questo punto siamo a quanto tempo del secondo settimanale all'inverso partito dal massimo della candela del 7 di giugno è arrivato fino a ieri 6 barre che la condizione necessaria sufficiente per chiudere far iniziare eventualmente un nuovo settimanale inverso un nuovo bisettimanale inverso perché qui abbiamo anche la condizione per chiudere tutto il ciclo bisettimanale inverso cosa succede quando chiudo o almeno ho la condizione per la chiusura di bisettimanale inverso e parte un altro per farne iniziare un altro anche soltanto un settimanale mi basta avere non soltanto la candela di oggi ma anche quella di domani sotto il massimo di di lunedì 17 sotto questo massimo qua e a quel punto con due candele sotto questo massimo posso valutare di far iniziare un nuovo settimanale con una terza anche solo di tempo puro a quel punto potrà partire anche un nuovo bisettimanale e poi che cosa se abbiamo terminato effettivamente il nostro settimanale qui e bisettimanale su questo massimo tornando sopra quest'altro massimo dove inizio a mettere un altro allarme avremo un altro vincolo di inverso a salire come prezzi dunque il massimo assoluto qua è 9 7 7 84 9 7 7 e 84 vincolo a salire per il nuovo ti più 1i ok in questo modo possiamo fare trading sereni contare quante barre sotto questo massimo avremo se saranno almeno due solo settimanale inverso che ritornando qui sopra la possibilità appunto di vincolarsi a tornare a salire se invece saranno almeno tre avremo appunto un bisettimanale attenzione però appunto a questo livello volumetrico se rimarremo sotto impianta stabile faremo delle chiusure giornaliere qui sotto si rischia di interrompere il tutto e di dover un attimo rivedere le cose cosa abbastanza stramba in questo momento perché a parte la possibilità di un raccordo inverso qual è l'aspettativa principale per i prossimi giorni la rimettiamo in campo ok questo è l'unico canale in cui c'è qualcuno che si espone dice guarda o si sale così con ancora qualche candela sotto questo massimo per poi ritornare a vincolarsi oppure si fa così direttamente e si torna a salire lo stesso come per la scorsa volta la zuppa non cambia o rimango per un pochino di tempo sotto questo massimo assoluto e poi mi rivincolo sopra questo massimo oppure aspettiamo che si chiuda appunto settimanale di inverso se da qui non c'è sta se qui non ha chiuso e poi ritorneremo appunto a salire quindi nuovi massimi lato indice che cosa possiamo raccontare possiamo raccontare che appunto qui abbiamo la chiusura di un mensile ma attenzione che io do sempre anche un'occhiata a quanti giorni siamo 41 sul massimo 43 di durata per chiudere tutto un primo mensile se non fosse iniziato quel secondo avremmo bisogno di un ritorno come minimo in quest'area quindi sotto questo livello tutto torna perfettamente ok mi raccomando ascoltate bene la parte in cui segnalo che se su questo massimo si è chiuso tutto il bisettimanale se su questa candela con la condizione necessaria e sufficiente si è chiuso due giorni tre giorni sotto il massimo e poi ritornando qui sopra si sale altrimenti se si torna prima continuiamo ad allungare il ciclo t settimanale fino all'undicesima barre noi siamo soltanto a 6 più 1 ok questo è fondamentale questo importante da andare ad ascoltare e da tenere soprattutto appunto in mente perché qui stiamo facendo un'ipotesi forte quella di chiusura con la condizione necessaria e sufficiente di tutto un bisettimanale inverso non fosse tira semplicemente su e poi vediamo che cosa succede entro le 11 barre l'altro indice come già detto possibilità di nuovo mensile il nuovo mensile che può aver chiuso qua 6 barre il primo settimanale che lo compone no chiuso qua a 9 barre da qui 1 2 3 giorni ok qui può rimanere a galleggiare fare quello che vuole perché intanto venerdì ci sono le tre streghe già oggi ho fatto vedere su tutti i mercati che disastri hanno fatto vi faccio un esempio guardate il mib laterale una lateralità a parte questo momento tra i 32.000 e 235 e i 32.357 125 tic di lateralità se prendiamo le spike da ridere tutto fermo oggi su mib siamo stati fermi abbiamo fatto solo due trade in game su due su su dax il dax infatti si è mosso decisamente bene ci ha dato dei belli spunti poi andati in laterale ma questo è un altro discorso in ogni caso ormai avete compreso se avete visto i video se avete visto le live con house of training piuttosto che altre che anche dal vivo i trader che vengono dati qua nella maggior parte nella stramaggioranza vanno in game e potete controllarlo ovviamente con tutti i video che avete a disposizione da qui a tornare indietro 4 anni ok un po diverso dai soliti fuffa guru piuttosto che da chi volete provare a vendervi dei corsi o altro la scelta questo punto stavo state ok www.analiseevoluta.it o.com appunti se non sai già di cosa stiamo parlando se non conosci l'analisi evoluta gratuiti ricevibili in un attimo oppure next level passaggio successivo ingresso nel gruppo premium e trading con me a ognuno la sua scelta in base al suo obiettivo auguro a tutti una splendida giornata la mia e lui già perché con un 3 su 3 mi preparo ad andare a casa riposarmi un po buon pomeriggio grazie a tutti